Continua l'impegno dell'attivista Gerardo Scotti per l'ambiente nel territorio comunale di Agropoli, che in questo caso porta alla luce l'ennesima traccia dell'inciviltà dell'uomo. Scotti, ultimamente molto attivo nel progetto del parco fluviale Testene, ha scovato una mini discarica sotto il ponte di località Marrota, nei pressi del supermercato Maxi Futura, un luogo dimenticato in cui sono presenti rifiuti di ogni genere, dalla plastica alle ruote delle automobili. La poca praticabilità del posto rende il luogo appetibile per coloro che hanno poco rispetto della nostra terra, dove possono smaltire rifiuti senza il pericolo di controlli mirati ad evitare il fenomeno, ormai necessari e che l'amministrazione ancora non mette in campo. L'inquinamento non si ferma ai soli rifiuti, ma anche all'acqua del fiume che passa sotto il ponte e alla flora del luogo, che per alcuni tratti è stata bruciata probabilmente nell'intenzione di smaltire tramite combustione dell'immondizia. La denuncia di Gerardo Scotti sui social è decisa e parla di un luogo che non esiste, dimenticato e sfruttato dall'inciviltà di chi non ha cuore l'ambiente.